Approfitto di questo momento per rispondere anche a queste accuse, chiamiamole così, da parte di alcuni giornali locali di Ventimiglia, che hanno preso una mia battuta, un paragone perché non ho insultato Ventimiglia, mentre stavo insultando la città in cui risiedo, che è Miami, che ha dei problemi a livello strutturale pazzeschi e siccome siamo in diretta mi è venuta in mente un'immagine di Ventimiglia, quando ci sono passato qualche anno fa, sul confine dove c'erano tutti questi cavi che penzolavano dalle finestre. Ora, negare che tante città italiane, tante città americane anche, abbiano dei problemi evidenti, ci sono fior fior di articoli pubblicati dagli stessi giornali che hanno scritto questo articolo inutile, dove si denuncia il degrado e situazioni veramente imbarazzanti in merito a immigrati e robe varie, che si debba perdere tempo a scrivere un articolo su di me quando ho fatto una semplice battuta in un programma comico come lo zoo. Tralasciando l'ipocrisia, che è tanta, a me quello che fa sorridere è il patriottismo spicciolo, perché se uno vive in un posto può puntare il dito e criticare, se uno da fuori fa un commento, in questo caso una battuta era, come osi! Io sono milanese e ho sempre criticato Milano perché ha un sacco di problemi, vivo a Miami da 12 anni, Miami la amo, però è piena di problemi, vado ogni fine settimana a risolvere dei problemi, quelli della gente incivile che butta la plastica in mare, vado a pulire le spiagge con un'associazione benefica, voglio dire, non è che puoi metterti paraocchi e far finta che non ci siano problemi, poi veramente questa è stata una battuta, noi siamo in diretta, il cervello va velocissimo, mi è venuta in mente questa immagine qua, punto, mi è venuta in mente l'immagine dei cavi, ho fatto il paragone, ma ragazzi scrivere degli articoli sui giornali, sprecare tempo, sprecare spazio per una cagata del genere davvero è, boh, non lo so, è senza senso, fate voi!